ho proprio il momento di apprezzare il motore cosa ti posso dire? però non so sono attirati nel grado anche perché non c'è, c'è lì si è velata non c'è non ha dappre questo è qua ok vedete se ci sono arrivate le foto? non c'è l'ho? un'ambio no un'ambio no no sarà fiumicare in tutti i foto no mi piace ma no mi piace mi piace mi piace colpire il suo incluso il suo no è l'altro il suo il suo lo o è la l'altro è l'altro è il suo è la Grazie.